vabbè il singolo è più facile se lo puoi andare su o là? su e là ma ragazzi non è facile eh? nooo non è facile mi sarei riuscito a tipo dai quando siete in tre è più facile quando siete in tre vai subito comunque davvero tecnicamente è venuto nel mio giocchio assolutamente uff veramente è bello da lei ahahah chiesi che ahahah 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 guardiamo in una sessione se incontriamo a essere così epilettici ahahah che odio? che è? la nebbia? ahahah ma perchè? ad ogni livello c'è qualche cosa e tu puoi pensare ma cosa è? ehm 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 ma ti appesantiscano con le azioni là che cos'è il mio appesantisco? ah la nebbia? no si vabbè ma 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 come ti apprendi le monete perchè sono pesantito? ahahah 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 non lo lasciate non lo lasciate non lo lasciate per favore prenditelo dai non lascia non lo sfungo ahahah vabbè ma io mai niente oh no no non ve lo niente vabbè no no lo spingete quando saltate fate fate sempre a me ahahah agitate sempre sta buona questa vita non si vede nulla vediamo che ma no deve venire un po' pezzo io sono no 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 non vedo nulla ah ho sforzato giù ok no 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 se ci sono giocabili in quattro anche il secondo mondo lui ci va superare ehi ciao no 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 scuso no 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 mi sono sorgugati a prendere la moneta no no che culo prende la moneta tu hai un peggio no ma come che sono morto